È stata una giornata fantastica. La musica fantastica, la cantante ancor di più. Perfetto. Secondo me oggi è stata una giornata fantastica che comunque ricorderò insomma per sempre ecco. È stata la mia prima volta, il mio primo video insomma che ho girato. Il brano riguarda un po' una questione un po' mia personale che riguarda un po' la mia famiglia insomma. È successo praticamente un fatto e io da quella sera ho deciso di scrivere su un foglio alcune parole che poi a scuola col mio insegnante abbiamo un po' sistemato e modificato insomma eccetera e siamo riusciti a creare un brano ecco. Non avevo idea di come potesse essere perché appunto non l'ho mai fatto. È stato molto bello, mi è piaciuto molto lavorare con voi, comunque siete delle persone fantastiche e spero insomma di lavorarci ancora. E poi magari... La giornata si è aperta con bellissimo sole autunnale ma che ha colorato il paesaggio dei giardini di Este così come il cielo nel tramonto e questa ha favorito riprese che credo saranno di gradimento per chi le vedrà. La musica fantastica, la cantante ancora di più e quindi è stato un piacere poter lavorare con lei e impersonare questo personaggio del papà che è anche un personaggio reale, vissuto. Credo che sarà una mia canzone che mi porterò con me e me l'ascolterò spesso, volentieri. E la vogliamo fare sempre lì oppure... Sempre lì. Esatto. Grazie.